Che cos'è il Buddy Battle? Quali saranno le novità che introdurrà questa nuova modalità di gioco per il TCG di One Piece? E cosa cambierà rispetto ai tradizionali match uno contro uno? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Sul sito ufficiale di One Piece Car Game, link in descrizione, nella sezione Event Competitive Championship 2023 April May Offline Regional sono state inserite tre voci riportanti le varie sfide che si svolgeranno in questo grande torneo. L'Offline Regional, per l'appunto, i vari side che popoleranno l'evento e il Buddy Battle. E proprio quest'ultima ha attirato l'attenzione di moltissimi pirati che incuriositi da questa nuova modalità di gioco hanno iniziato ad interessarsi attivamente per comprendere al meglio i vari passaggi da seguire per intraprendere questa nuova avventura per i Sette Mari in compagnia di una ciurma alleata. E sarà in questo video che analizzeremo il regolamento del gioco, ancora in completo a detta del regolamento stesso, in modo tale da carpire ogni singolo passaggio che vi vedrà protagonisti di battaglie sempre più spettacolari. Prima di iniziare, volevo invitarvi ad iscrivervi se ancora non lo avete fatto. Per voi è solamente un click, per il canale invece è molto importante. In questo modo, crescendo, si riusciranno a portare contenuti sempre più interessanti e ricercati. In più, non dimenticatevi di seguirmi anche su Instagram e la pagina Facebook, dove pubblicherò aggiornamenti riguardanti le varie uscite dei video e molto altro ancora. Troverete i link in descrizione. Grazie di cuore in anticipo. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme quali saranno i vari passaggi da seguire per giocare un match in modalità Buddy Battle. Andiamo a dargli un'occhiata. Nel 2v2 del TCG di One Piece, ogni singolo aspirante re dei pirati potrà indossare i panni del proprio personaggio preferito, portando con sé un deck composto da esattamente 50 carte e 10 don, proprio come per il regolamento tradizionale. Prima di iniziare un match, ogni team dovrà ritrovarsi uno di fronte l'altro una volta seduto al tavolo da gioco. Dopo aver stabilito quale squadra avrà il primo turno, ogni giocatore pescherà fino a 5 carte dalla cima del proprio mazzo e, dopo aver stabilito, come da regolamento originale, se tenere la mano o effettuare un mulligan, dovrà porre le prime carte dalla cima del mazzo nella propria pila delle vite. Nel Buddy Battle, a differenza di una tipica partita, il numero di vite sarà pari al valore riportato sulla carta del leader, per meno 2. Ad esempio, se vestirete i panni di barba bianca, avrete a disposizione 4 vite invece che 6, Smoker possiederà 3 vite invece che 5 e così via. La sequenza dei turni all'interno di un match seguirà uno schema ad N, A1, B1, A2 e B2, tornando al principio dopo che tutti i quattro giocatori avranno concluso la loro mano. Notate bene, nessuno dei quattro aspiranti re dei pirati potrà attaccare nel suo rispettivo primo turno. Per quanto riguarderà invece pescare una carta o aggiungere dei don a propria disposizione, A1 e B1 rispettivamente salteranno la fase di pescata e aggiungeranno un singolo don in gioco, essendo per entrambi il loro primo turno. Quindi in tutti quelli successivi si schiereranno due donne nella propria riserva e si andrà nella fase di pescata ad aggiungere una carta dalla cima del mazzo alla mano. Una volta entrati nel vivo del match ci saranno delle informazioni da conoscere, come ad esempio quando un effetto riporterà la dicitura a avversario, spetterà a voi scegliere a quale membro della squadra nemica fare riferimento, risolvendo l'effetto di conseguenza. Quando un effetto riporterà le diciture tu o tuo, spetterà a voi scegliere a quale membro della vostra squadra fare riferimento, risolvendo l'effetto di conseguenza. Le carte che non specificheranno le diciture, avversario, tu o tuo, avranno effetto su tutti i giocatori. Le abilità permanenti saranno attive sia per chi vi giocherà contro che per il vostro stesso team. In linea di principio potrete giocare character solo ed unicamente sul vostro lato di campo. Ok Arconte, e per quanto riguarderà le battaglie? Se ad esempio A1 verrà attaccato da B1, A2 potrà correre in aiuto del compagno di squadra, attivando nella fase di blocco o counter, rispettivamente i propri blocker o utilizzando dalla mano gli event o character in suo possesso. Altre info. Potrete conferire con il vostro compagno di squadra e visionare le carte che avrà in mano. Non potrete attaccare un membro del vostro team e non potrete condividere effetti. I match avranno una durata stimata massima di 90 minuti, al meglio di un singolo incontro. Perfetto Arconte, ma manca ancora qualcosa. Come si vincerà in una partita di body battle? Quando entrambi i giocatori avranno zero vite a propria disposizione e infliggerete un danno con successo ad uno dei loro leader, verrete proclamati i vincitori dell'incontro. Allo stesso modo vincerete il match se il numero di carte nei mazzi di entrambi i giocatori sarà pari a zero. Prima di concludere, volevo ricordarvi ancora una volta che il regolamento appena trattato non ha raggiunto una forma definitiva e quindi potrà essere soggetto a modifiche. Ci sarà comunque un video dedicato quando l'intera struttura di questa nuova modalità di gioco per il TCG di One Piece sarà ufficiale. La nuova sfida che vi aspetta non solo creerà dei legami indissolubili tra i diversi equipaggi salpati alla volta del grande tesoro lasciato in eredità da Gold Roger, ma creerà sempre più sinergie e combinazioni di carte che faranno restare a bocca aperta tutti coloro che avranno la fortuna di vederle. E voi, proverete a sfidare altri aspiranti re dei pirati collaborando con diverse ciurme, andando così a creare alleanze sempre più potenti? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.